La nuova deputazione irpina in Consiglio regionale sarà composta da quattro consiglieri. Rosetta D'Amelio, eletta nella lista PD con 10.751 voti, torna a sedere nei banchi di Palazzo Santa Lucia, ma stavolta dalla parte della maggioranza. Per lei un risultato che è frutto di un costante lavoro svolto in questi cinque anni sul territorio. Per l'ex assessore regionale della Giunta Bassolino questo sarà il terzo mandato. Adesso abbiamo un'altra responsabilità che è quella di tutelare le persone che abbiamo detto che sono state penalizzate. Quindi io penso che dobbiamo avere una grande attenzione al sociale, una grande attenzione agli idraulici forestali, ai giovani. C'è un grande lavoro da fare e la cosa più importante è che dobbiamo spendere fin dal primo giorno le risorse europee. Non possiamo far ripetere questo scempio che ha fatto Caldoro che ritorna all'Europa 2 miliardi e 400 milioni. L'anio entry è il medico Carlo Iannace, candidato di punta della lista per De Luca presidente che ha avuto 8.605 voti. Per l'ex sindaco di San Leucio, noto e molto amato senologo del Moscati, sarà un lavoro tutto orientato sul tema della sanità. Settore delicato per la regione ancora commissariata e sotto piano di rientro. Maurizio Petracca, capolista Udc, entra in maggioranza con 7.497 voti. È lui l'uomo di De Mita, figlio di un accordo preelettorale che di fatto ha consegnato la regione nelle mani di De Luca. Il peso specifico di questo seggio è dunque considerevole e apre nuovi scenari sugli equilibri politici, non solo in Irpinia, ma su tutto il territorio campano. Infine c'è Vincenzo Alaia che entra in consiglio con 5.712 voti per il Centro Democratico, sindaco battagliero e passionario, rappresentante di un territorio tutt'altro che facile. Il mio motto era l'Irpinia nel cuore. Adesso è il momento di lavorare, lavorare, lavorare. Le emergenze in Irpinia sono tantissime, a partire dalla sanità, dai servizi sociali, trasporti, agricoltura. Noi affronteremo tutti questi problemi con determinazione e con il cuore. I grandi esclusi Irpini di questa tornata elettorale sono davvero tanti. Innanzitutto il senatore Vincenzo De Luca, arrivato secondo nella lista del PD dietro la D'Amelio, un dato che rischia di modificare profondamente anche certe dinamiche interne al partito di viatagliamento. Poi c'è la beffa per Pietro Foglia, ex presidente del Consiglio regionale del nuovo centrodestra, che porta a casa ben 11.215 voti, ma resta a casa per un complesso calcolo di rappresentanza che premia i partiti vincitori. L'altro beffato è Gianluca Festa. Il seggio, destinato a Davvero Verdi, sarebbe stato dirottato per un gioco di quozienti maggiori alla circoscrizione di Napoli. Fuori dal Consiglio anche Antonio Ruggero e Sergio Nappi per Forza Italia. E sempre tra gli azzurri c'è da registrare il risultato dell'ex sindaco di Avellino, Giuseppe Galasso, che dopo essere passato con Forza Italia, aveva investito tutto su questa occasione per rientrare in pista dalla porta principale. Nessun grillino irpino tra i sette che siederanno a Palazzo Santa Lucia, ma nel movimento assicurano nessuno ne farà un dramma.